Intervento dei vigili del fuoco nella giornata di sabato a Lessona. Gli operatori sono stati chiamati a domare le fiamme divampate al secondo piano di una casa in località Capovilla. Le fiamme hanno invaso velocemente la cucina della casa e da lì sarebbe partito l'incendio. Sul posto i vigili del fuoco di Biella, Cossato e Ponzone per cinque squadre operative in tutto. Due le persone che sono state portate in ospedale per accertamenti dovuti a leggeri sintomi di intossicazione da fumo. Ingenti i danni provocati all'edificio. Il fuoco è stato spento e lo stabile messo in sicurezza, anche se resta inagibile. Le due persone portate in ospedale per accertamenti relativi a sintomi di intossicazione da fumo non versano in condizione di particolare gravità. Sulle cause hanno indagato i vigili del fuoco coadiuvati dai carabinieri di zona.